ciao a tutti ragazzi sono Tio Remoli benvenuti in questo nuovo video reaction oggi reagiremo all'evoluzione che hanno avuto le prime schermate di accensione delle console da playstation, la race box, la nintendo, nintendo switch siamo pronti? via! questa qui è la race box ora la xbox per sapere che deve essere la prima ce l'avevo anche la primissima la primissima questa forse era un momento che giocava prima il mio papà e stop qui un'altra e sbostra a 60 wow due addiction wow c'era anche questa non sapevo che bella che è e tra l'altro che faceva la nintendo ma ce lo sapete Xbox One che carina però quando si accende è veramente pubblicità per la xbox vediamo qui un'altra schermata wow questa critta particolare si è anche della xbox bellissima playstation poi arriveremo anche la nintendo li vedremo playstation playstation 2 playstation 2 sempre playstation portatile playstation 2 psp le ne avevo uno di psp non mai usato playstation 3 playstation 3 wow playstation vita se ne ero la piaspita quello che avevo io però poi l'accadente non ho preso ma non ho preso nemmeno quella avevo qualche dischetto playstation 4 s nintendi wow era così una volta il nintendo nintendo 64 carino doveva avere il nintendo 64 da qualche parte gamecube anche questo anche questo gamecube cinque e mezzo wow nintendo wheel nintendo wheel nintendo switch ecco la p la fede a canzone i giovanni non vuoi advance poi me la ricordo come se fosse ieri questa schermata interno di s anche questo 3s quanti ricordi ragazzi che è uscito 1900 un monico se non si legge questo è il primissimo nintendo fa ridere 1989 gameboy gameboy prima intendo gameboy c'è gameboy qua qui tra l'altro fanno vedere questo cos'è virtua il boi ma questo qui ragazzi non me lo ricordo ma c'era una cazzata venga venga ha già uscito questo dopo città colorato ok non è fatemi sapere davvero se c'era colorato ma cavolata 2001 del voto qua c'era perché c'erano anch'io credo è proprio così il mio ben voi 2003 devo essere più ragazzi questo qui è il mio preferito solo che non lo trovavo mai non lo scivo mai ad avercelo poi l'ho preso su internet questo qui era bellissimo l'ho usato tantissimo era uno dei miei preferiti 2004 intero di s intero di s ma ragazzi non c'era anche il coso c'era anche che vuoi micro sì basta che ho già fino a 1.500 eccolo qua gameboy micro questo qui ragazzi è il gameboy più piccolo del mondo è la minuscola che ricordi io ce l'avevo verde era un regalo di compleanno non era rosso il gameboy micro no oh mamma mia che brutta scena c'è un topo che se lo sta che brutta scena che ho visto c'era un topo che stava facendo le sue cose con il gameboy micro ma dai lasciate stare il gameboy micro per piacere 2006 nintendo di s light questo qui ha distrutto questo qui quello che sai l'emore pigro io sento esatto ragazzi il classico intero di asli ma venga venga signore venga nel video 2002 2010 nintendo 2010 nintendo 2010 nintendo 2010 nintendo 2010 wow quanti ricordi ragazzi mi era azzurro come fuori prima venga 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 dentro inizia via che poteva sì questo qua è più bello che si poteva modificare fare le foto dsi nintendo dsi wow 2011 2012 nintendo 3ds e 3ds xl questi li macinati bene anche questi qua li macinati bene confermo 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 2013 nintendo nintendo 2ds questo prima parere è il nintendo più scomodo di tutti i tempi questo qui l'avevamo fatta perchè non ha la possibilità di comprarsi il 3ds esatto 3ds 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 xl la versione nuova però vero si credo qua con zelda che bei ricordi ragazzi che bei tempi che erano 2017 cominciamo a avvicinarci vabbè Nintendo switch questo ok ce l'abbiamo anche noi esatto mi hanno fatto vedere la win normale è perchè non è proprio la console portatili è perchè non sono portatili è vero ragazzi non abbiamo visto la wii da wii u è ma perchè non sono portatili è vero mentre questi sono portatili sono tutti nintendo o comunque console portatili che te li carichi 2017 cos'era no ragazzi questo qui non c'è questo qui non è vero dai 2ds xl che roba è questo qui ragazzi non me lo ricordo ma lo sapete ma c'è sul serio 2019 ma va un po' avanti un po' indietro nintendo switch light eccola qua il gioiellino che è appena uscito tra l'altro uscito poco fa novembre credo ottobre bellissima niente ragazzi io blocco il video altrimenti parte subito un altro video sarà meglio bloccarlo luoccati io vi saluto vi ringrazio per la visione se vi è piaciuto spollicciate se non siete iscritti iscrivetevi e vi lasciate al prossimo video saluto 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 ciao